Parliamo dell'esperimento di Miller. Chi era Miller? Miller era uno scienziato che in laboratorio ha ricreato l'ambiente della Terra, quindi ha creato un'ampolla di vetro con all'interno quello che si pensa potesse essere l'atmosfera terrestre primordiale, acqua, metano, ammoniaca, idrogeno e monossido di carbonio, ha simulato dei fulmini con delle scariche elettriche e ha lasciato lavorare questo sistema per alcuni giorni e settimane. Ha anche riprodotto un oceano primordiale dentro un'altra ampolla e mantenuto collegate queste due ampolle come sono collegate in natura, oceano e atmosfera, e ha visto che l'interazione di questi due ambienti primordiali riprodotti hanno dato origine a degli amminoacidi. Gli amminoacidi sono i mattoni delle proteine, compongono la nostra pelle, i nostri capelli e di fatto tutti gli esseri eventi. Quindi questo signore Miller, riproducendo la chimica e la fisica dell'atmosfera primordiale, ha scoperto che spontaneamente nell'ambiente terrestre si formavano i mattoni delle proteine. Quindi ha trovato uno dei tanti passaggi che hanno trasformato la chimica in biologia. Ancora non si conosce bene come poi questi aminoacidi si sono convertiti in proteine complesse e come si possono essere formate anche delle molecole di DNA, però intanto è comunque un passaggio importante che ha spiegato come da un'atmosfera di sostanze chimiche semplici se siano formate in molecole più complesse che oggi costituiscono gli esseri viventi. Questo è solamente un estratto della video-lezione completa sulla vita o tra la Terra. Nella lezione completa parlerò della chimica della vita, quindi vedremo le molecole e gli atomi che compongono la vita sulla Terra, parlerò del caso Venere e del caso Marte, e vedremo quali sono i candidati degli esseri pianeti già scoperti che possono ospitare la vita. Parlerò di questo e tanto altro ancora nella lezione completa, la numero 10 del mio corso di Astronomia Vita o tra la Terra. La potete trovare nel mio canale YouTube e nelle mie pagine Instagram e Facebook Prof Antonio Loiacono. Grazie.